Prima di andare vorrei ringraziare particolarmente Giorgia Tavella perché è la sua penultima serata con noi e poi Giorgia che viene via con me dalla prossima settimana sarà altrove diciamo una tv tematica, non una tv concorrente comunque resta in Italia però mi sembrava giusto visto che per tanti anni con Giorgia siamo andati in onda insieme ringraziarla, sono sette anni che hai fatto con noi ringraziarla per... sono sette anni era una bambina sono sette anni bellissimi io ringrazio voi e non è ritorica, non è scontato che all'interno di un posto di lavoro poi si trovi una famiglia invece per me è stato esattamente così sono stati sette anni molto intensi, molto belli sono molto emozionata, grazie a te Fabio no, sicuramente e grazie a tutti voi ecco, ringraziamo per la simpatia, la carica di allegria la disponibilità che ha sempre avuto anche in redazione ed è stata per noi davvero una compagna di viaggio straordinaria e ti facciamo un grande bollone di commuovere adesso Giorgia è anche bellina da vedere questo va al di là bella, brava, simpatica la piatta, il vecchio fauno solito non è questa la sede per dire queste cose e quindi mancherai Giorgia tanto noi, tanto i nostri telespettatori però sono stati sette anni davvero belli in cui tu ci hai dato molto più di quello che noi abbiamo ricevuto quindi grazie Giorgia e ti vogliamo tutti bene allora, lina alla regia e si riparte con la Tranta grazie grazie